Siamo un po' rimaneggiati, quindi abbiamo pochi giocatori per ruolo, quindi dobbiamo adattarci, ognuno di noi deve adattarsi per ruolo e quindi succedono queste cose, chiaramente soprattutto si rivela in difesa. Purtroppo è arrivata una battuta d'arresto, una seconda battuta d'arresto consecutiva dopo la sconfitta, molto a sorpresa contro il 3 di Golea. Oggi diciamo avete tenuto bene il campo, però forse non è bastato come dici tu. No, non è bastato perché ogni volta dobbiamo combattere con assenze o incortuni e quindi di volta in volta dobbiamo, ripeto, adattarci. Le partite vanno vissute volta per volta e sta andando male. Allora speriamo bene che magari il proseguo del torneo riuscite a ritrovare la squadra migliore e gli uomini migliori. In bocca a lui e il proseguo. Grazie. 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 Grazie.